Presidente, il dibattito con Ellie Schlein si avvicina. Sì. Lei è pronta? Ovviamente. Mi per lei va bene che ho invitato Schlein oggi per decidere come svolgere il dibattito? Ma oggi? Eh sì, oggi. Ma proprio oggi? Presidente, Schlein è già qui. Presidente, ma che sta facendo? Ma le pare il momento di disegnare? Mi dia il foglio. Ma cos'è? Ma io con sta zecca comunista non ci parlo? Ma che parole usa? Eh, queste parole si possono ancora dire, sì. Sì, sì. Ma non per un dibattito civile. Ah, no? Eh, no. E le ricordo che lei è anche il presidente del Consiglio. Vabbè, ma io sono un po' matta. Che ci bisogna fare? Sentite, questo dibattito si deve fare. Secondo me no. Io spero di no. Vogliamo cercare un punto d'incontro, una quadra, almeno una cosa su cui andare d'accordo entrambe? È difficile che la risposta sia positiva. Esattamente. Oh, ecco, abbiamo la prima cosa in comune. È un buon inizio, no? Senti, ma chi ce lo fa fare? No? Ma alla fine se noi ci girassimo dall'altra parte non staremmo meglio? La risposta è sì. Ma come girate? Ma che vuol dire? Ma di spalle, ma no. Manca al liceo. Manco al liceo.